sono ciao a tutti ragazzi sono l'orex mecca e benvenuti in questo nuovissimo video sono su dragon ball legends perché ho deciso voglio prenderli adesso con secoli siamo via ho paura da paura dai se c'è la broli anime se perdi se la broli anime no perché non è quando perdi se la broli no non c'è no perdo ma c'è un animazione si vegeta super saian poi c'ho pure le sparking garantite e prima andata sparking no l'ho sblocato ce l'ho il goku black super saian rosse domani domani vedete domani vedete no 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 domani like like domani vedete no altra consecutive summon via ragazzi vai andiamo non ci credo due leggende limited si mo ci trovo sapete che cosa schippo anche qua sparking dispo ho tutta la truppa pride ottimo così ho anche le sparking garantite l'ultima 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 mi manca solo il go ultra istinto va bene va bene è un po difficile però che no in questa spera certe menti ecco dai qualcosa di bello eh e alla fine quando non ci sono sparking per un sacco di personaggi… di nuova extreme domani vergite con avoggeto! ti stai? si vergite portare il tuo livello max ma la mia specialità fai leggendari finisci dal tuo tempo eppure Goku Black il nuovo è quello più reggente sei contento? e secondo te sono contento? si ok ragazzi ma ora dovrebbe essere finito il video no? no perché ho le 3 sparting garantite lasciate like se non l'avete ancora fatto beh vabbè c'è un fake out assurdo nuova vero nuova sparting sono la mia gioia è andata a superare i limiti è andata qui poi se dove il testino arriva qui si si un altro disco va a 3 stelle un altro disco pure a 3 stelle noi siamo a posto l'ultima sparting dopo metti contro non a me no io lo devo provare Goku Black oh altro fake out assurdo Trunks eppure Black il nuovo Black si infatti ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto da LorexMek è tutto noi ci vediamo domani in un prossimo video ciao ciao